Non credo, Grillo è stato abilissimo a usare l'web come strumento di propaganda, poi però si è reso conto che una democrazia digitale non è possibile, è un'idiozia, non è un'utopia, perché la nostra è una società complessa e nel momento in cui ti metti in testa di selezionare il personale politico attraverso la rete non puoi che sbattere la testa contro un muro, infatti il Movimento 5 Stelle che ha ottenuto consensi in misura strabiliante, addirittura è diventato il primo partito italiano, però è una scatola vuota, in sostanza si è visto che selezionare il personale politico con questo mezzo significa raccatare di tutto e di solito anche il peggio. Non solo, ma anche quando si è trattato nel Movimento 5 Stelle di scegliere attraverso una votazione democratica sulla rete il candidato Presidente della Repubblica, è venuto fuori un nome dubbiamente rispettabile ma improbabile, quello della Gabanelli, di Milena Gabanelli, una giornalista, dopodiché visto che la signora non era molto d'accordo nell'accettare la candidatura si è ripiegato su Rodotà che aveva ottenuto sulla rete la miseria del 3%, per cui che cosa si può dire? Effettivamente il Movimento 5 Stelle ha suscitato entusiasmo attraverso il suo leader carismatico il quale, da grande comico che è stato, ha trasformato il comizio in un cabaret gratuito e amplificato, suscitando entusiasmi. Anche la speranza, per esempio anch'io sono stato coinvolto in questo, perché a un certo punto la tentazione di votare Grillo l'ho avuta non perché pensassi che fosse l'uomo adatto a risolvere i problemi italiani, ma pensavo, speravo che potesse distruggere il nostro sistema istituzionale che è chiaramente marcio e non risponde più alle esigenze attuali e dal caos che avrebbe provocato la distruzione del sistema, quindi dalle macerie del sistema, immaginavo che sarebbe potuto sorgere un nuovo ordine. Tutto questo non è stato possibile perché alla fine abbiamo visto che il nostro simpatico Grillo non riesce che a fare del cabaret, ad alzare la voce, per l'amor di Dio, ma è anche meno simpatico perché adesso che lo abbiamo ascoltato 3 o 4 mila volte non ne possiamo più. Gli uomini e le donne che ha selezionato sono, scusa finisco, sono così degli inesperti, dei pasticcioni, dei piccoloborghesi che sono attaccati disperatamente allo scranno che hanno conquistato grazie a lui e adesso chi ha conquistato quello scranno cosa fa? Contesta colui il quale li ha resi, diciamo così, onorevoli o senatori. Insomma siamo alla burla, siamo a una situazione paradossale per cui sono convinto che il Movimento 5 Stelle sia già in coma e tra poco dovrà morire e sarà lo stesso Grillo, credo, a liquidare questo obrobrio che è diventato il Movimento 5 Stelle, altro che speranza. È veramente una palude mostro lozano.